cittadino stabiese. Grazie Dennis per le tue parole. Io volevo il piacere di conoscere il direttore artistico di Castellammare di Stato. Lo incontreremo domenica. Perché non ho mai avuto il piacere di conoscerti. Lo incontreremo domenica. Ma Dennis, tanto chi è che non ti conosce? Eh beh, io non lo conosco. Orgoglioso di essere stabiese, signori, facciamo un altro applauso a Dennis, un vero artista. Grazie. Io, forse prima... Io volevo avere qui sul palco gli insegnanti del Centro Professionale Arte e Danza. Dennis, anche tutti. E piano piano, piano piano, tutti gli allievi che formano questa grande famiglia, dal pubblico al palco. Prego. Un applauso. Grazie. Prego. Piano piano, tutti sul palco. Vi accompagno io.